Nonostante le proteste, la giustizia britannica continua a bocciare i ricorsi dei richiedenti asilo che non vogliono essere trasportati in Ruanda. Anche martedì mattina la Corte Suprema di Londra ne ha respinto uno. In base all'accordo firmato con il Ruanda, il paese africano dovrà accogliere in cambio di l'autocompenso chi sia entrato illegalmente in Gran Bretagna dal 1 gennaio 2022, esaminare le richieste d'asilo e decidere per il sì o il no. Questo è l'Op Hostel di Kigali, costruito nel 2014. Può accogliere fino a 100 persone, tariffa 65 dollari al giorno. Non è una prigione, dice il manager Ismail Bachina. È una casa come un'altra. Li serviamo come in un albergo. In albergo sei libero di fare quello che vuoi. Se vogliono uscire, nessun problema. Per molti cittadini della capitale è la dimostrazione che Ruanda è un paese sicuro, che ha votato pagina dopo il genocidio del 1994, che vide forse un milione di persone d'etnia Tutsi, massacrate in pochi mesi dall'etnia Hutu. Non è d'accordo però la politica Victoria Ingabire, presidente del partito d'opposizione d'Alfao Murunzi, sviluppo e libertà per tutti. Una formazione non riconosciuta dal governo. In Ruanda, dice, ci sono già migliaia di giovani disoccupati. Non vedo perché la Gran Bretagna si debba sbarazzare delle sue responsabilità e le trasferisca a un paese povero e non democratico. La Gran Bretagna critica il Ruanda in materia di diritti umani, ma allo stesso tempo manda delle persone in questo paese che critica. È il mondo alla rovescia. Quindi c'è il mondo all'inverse.